Paolo Neri Jr. era appena rientrato da Dublino, Massimiliano da Miami. I carabinieri di Pescara non hanno perso tempo, ieri pomeriggio hanno chiamato a testimoniare nel comando provinciale i due fratelli di Alessandro Neri. Il 28enne di Spoltore ucciso lunedì scorso a colpi di pistola e ritrovato giovedì sera senza vita all'interno di Fosso Valle Lunga, alla periferia sud di Pescara, ucciso con due colpi di pistola. Gli inquirenti continuano a scavare nella vita di questa famiglia di imprenditori che ha rapporti d'affari e familiari sia in Italia che in Venezuela. I due fratelli hanno aiutato i carabinieri a ricostruire ed approfondire anche le frequentazioni e le amicizie di Alessandro, non tutte limpide per la verità, alcune legate alla frangia più estrema della tifoseria del Pescara. I fratelli neri accompagnati dal papà Paolo e dallo zio Antonino Ida hanno lasciato il comando provinciale attorno alle 19.40 evitando i giornalisti e i fotografi. Bocche cucite per una famiglia che ha sempre rispedito al mittente i rumors su dissidi interni per questioni patrimoniali, soprattutto tra il Amaletto, la famiglia materna titolare della tenuta Feuduccio di Orsogna. Comunque resta sempre sotto la lente di ingrandimento il rapporto tra il cugino Gaetano, che si trova all'estero e al momento irreperibile, e Alessandro, con il quale in passato ci sono stati litigie dissapori forse legati alla gestione degli affari di famiglia. Dopo le acquisizioni di materiale e di computer in casa neri a Spoltore, a breve torneranno a Pescara i carabinieri del RIS per analizzare a fondo i due SUV sequestrati ai Lamaletto nella villa dei nonni materni a Giuliano Tatino e nella tenuta di Orsogna. RIS che avevano già passato al setaccio la 500 rossa di Alessandro, con la quale lunedì scorso il ragazzo aveva lasciato casa per l'ultima volta e misteriosamente ricomparsa mercoledì mattina in via Mazzini davanti la pizzeria Maruzella. Intanto la comunità venezuelana in Abruzzo si stringe attorno alla famiglia Neri e fa sapere che sarà presente al funerale di Alessandro con la bandiera del Venezuela. I rappresentanti all'interno del cram Abruzzo sottolineano che questo è il momento di tacere ogni sentimento e impressione personale che non aggiunga nulla alle indagini e che si risolva solo nel pettegolezzo. Abruzzo Abruzzo